Aiutare la persona dall'infanzia alla terza età a diventare più sana e più forte è l'intento del convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia. In programma per venerdì 17 aprile alle ore 16.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. L'incontro vedrà la partecipazione di docenti ed esperti. Il pedagogista Alfredo Pacassoni presenterà alcune pratiche educative basate sulla prevenzione primaria, sullo sviluppo e sulla cultura della persona, iniziando dalla formazione dei bambini. Un appuntamento rivolto in particolare agli educatori, agli amministratori, ai genitori e a quanti si occupano di cura, assistenza e formazione. È un tema educativo che praticamente suggerisce, offre al dibattito e spero a concreti sviluppi, delle relazioni diverse con i bambini. Cioè aiutiamo i bambini a divenire più esploratori, più artisti e più atleti. Cioè con questo voglio dire più creativi. Un approccio diverso che può aiutare la persona a divenire più sviluppata, più forte, meno feribile, meno soggetta all'insorgere di difficoltà che oggi sono tante. Quindi un vero e proprio progetto di prevenzione primaria.